E' emozionante, quando sono partita da termini non c'erano le vere aspettative, niente di niente. Da un certo punto mi hai detto, ma per chi ha togliamo con me? Io l'ho capito dopo. L'hai capito dopo? Non ho capito dopo perché i colleghi dell'Angelo di Rezoghiamo 1 hanno visto tutte le mie prestazioni da Monteladini che c'era lì. Insomma, le scelte, l'hanno detto io, ho fatto una domanda sotto. Grazie. Grazie.